Giorgio Napolitano scrive al direttore della stampa, tre giorni dopo il pacco bomba, un etto di esplosivo nascosto in un hard disk, recapitato nella redazione torinese e indirizzato al giornalista che da anni si occupa della TAV. Il capo dello Stato esprime al giornale la sua solidarietà e condanna nettamente all'escalation di violenza delle frange estreme cresciute ai margini del movimento NOTAV, snaturandone ogni legittimo profilo di pacifico di senso e movimento di opinione. Napolitano afferma di condividere il più netto richiamo al superamento di ogni tolleranza e ambiguità nei confronti di violenze di stampa ormai terroristico. In pratica fuori i violenti dalla Val Susa, un appello già lanciato dal sindaco di Torino Piero Fassino e dagli amministratori locali della valle. Mentre il movimento NOTAV che si oppone al treno ad alta velocità continua a sostenere che pacchi bomba e proiettili non gli appartengono e rifiutano di essere accostati a questi atti. Il procuratore di Torino Giancarlo Caselli ha confermato che l'ordigno arrivato alla redazione della stampa è stato fatto da mani esperte, costruito per uccidere. Si guarda all'area antagonista più violenta, una componente che dietro all'etichetta del movimento NOTAV opera e diffonde messaggi intimidatori. La presa di posizione del capo dello Stato arriva in una fase delicata dei lavori in Val di Susa. La TAP inizierà a giorni a scavare il tunnel geognostico con i sabotaggi ai cantieri e alle aziende che lavorano per la TAP che non si sono mai fermati. Tanto da far decidere al titolare della Geomont, mercoledì scorso è stato incendiato un suo macchinario da 500.000 euro e non era la prima volta di ritirarsi dai lavori. Una retromarcia dovuta anche all'annullamento ieri di un provvedimento in commissione bilancio che doveva riconoscere il risarcimento dei danni subiti dalle aziende vittime di attentati o sabotaggi. Stasera tornerà in Val di Susa Henry De Luca, lo scrittore che si è schierato a fianco dei cittadini che si oppongono al treno dell'alta velocità. Aveva ammesso di aver partecipato ai sabotaggi. Per le sue dichiarazioni la procura di Torino aveva aperto un fascicolo contro i gnoti al momento senza ipotesi di reato. Grazie per la visione!